Nuovi finanziamenti agevolati per le imprese presentate a Confindustria Bari, il tutto in collaborazione con Simest nell'ottica di un momento decisamente favorevole. Sono infatti oltre mille le domande giunte dalle imprese pugliesi, il dato è in netta crescita rispetto al passato. Un passo in avanti in generale anche per tutto il mondo imprenditoriale e meridionale grazie al 40% di fondi PNRR riservati al mezzogiorno che riserva un plafond di circa un miliardo anche per contributi a fondo perduto. In un momento così importante in cui le esportazioni sono obbligatorie per la crescita delle imprese, desideriamo approfondire queste tematiche proprio per la competitività delle imprese. Da uno studio Istat risulta che le aziende che esportano sono anche quelle più competitive e che possono affrontare i mercati nel migliore dei modi. Fondamentali export ed internazionalizzazione. Dal 10-15% di domande delle imprese meridionali a Simest negli anni precedenti si è giunti ad oltre il 40%, segno di una maggiore consapevolezza. Sicuramente c'è una maggiore consapevolezza, c'è anche il fatto di un rinnovato e più profondo raccordo con le realtà imprenditoriali e territoriali che ci permette di raggiungere quanto più e quanto meglio le aziende sui territori e quindi di portare fino nelle aziende, direttamente in azienda, quelle che sono le notizie dei fondi che noi gestiamo per conto dello Stato. I settori si sono integrati a quelli che da sempre rappresentano il Made in Italy, quello che gli amici dell'Ice chiamano il bello e ben fatto, quindi chiaramente moda, arredo e alimentare, anche a tutti quelli di settori tecnologici che in realtà forse noi stessi abbiamo poca consapevolezza di quanto l'Italia, anche nelle regioni del Mezzogiorno, rappresenta eccellenze a livello internazionale.